in questo video vi presentiamo una delle ultime novità marchio oro atria all'interno della categoria guanti nello specifico presentiamo il guanto in pelle fiore bovino orlato con dorso realizzato in crosta bovina della nuova linea angelina denominato lm 180 g per la realizzazione di questo guanto sono stati utilizzati solo ed esclusivamente pellami selezionati di grado a con uno spessore medio di 1,1 mm atto a conferire a questo prodotto morbidezza destrezza e durata durante tutta la sua vita utile rispetto a un comune quanto in fiore la caratteristica di questo guanto è che il dorso del guanto è stato realizzato con la crosta bovina questa soluzione oltre che garantire vantaggi in termini economici è particolarmente indicata all'interno dell'ambiente industria il concepimento di questo guanto segue la modalità di costruzione denominata in gergo for tips ossia la modalità che provvede l'accoppiamento e la cucitura di palmo e dorso senza alcuna altra cucitura supplementare all'indice è bene precisare che spesso nel mercato sono presenti guanti in pelle fiore bovino dorso crosta di qualità bassa e di bassa manifattura realizzati spesso con pelli alternative meno pregiate quali bufalo bufalino o addirittura anche per altre pelle miste lavorate con spessori molto esigui e molto inferiore quanto in questione questo guanto è stato realizzato in due taglie nello specifico la taglia 9 la taglia 10 dove viene distinto anche per il colore del bordino la taglia 9 avrà la colorazione del bordino di colore giallo la taglia 10 sarà nella colorazione del bordino di colore verde i valori di resistenza meccanica sono apposti sul dorso del guanto sotto al pitogramma meccanico conforme alla nuova normativa en 388 2016 il primo valore indica la resistenza all'abrasione in questo caso due il secondo valore indica la resistenza al taglio da lama in questo caso uno il terzo valore indica la resistenza allo strappo in questo caso 4 il quarto valore indica la resistenza alla perforazione in questo caso 2 il quinto valore dove apposta una x sta ad indicare la resistenza al taglio iso 13 997 gli ambienti di utilizzo di questo guanto sono la carpenteria leggera media pesante il montaggio in genere le manutenzioni medio pesanti il disboscamento giardinaggio agricoltura industria in genere magazzinaggio automotive e nello specifico gommisti e autoriparatori trasporti e logistica edilizia il guanto lm 180 g è un dispositivo di protezione individuale di seconda categoria conforme alle normative europee vigenti ce se vuoi ricevere maggiori informazioni su questo prodotto o d'ordinarlo clicca sul link